Bene ragazzi, qui di Degiotico... Ok, scusate, con Lefi Streggie, quindi il fin di gioco Farfalla Ce la faccio a... ok Foto, foto subito, non abbiamo tempo di stare a guardare, magari scappa Com'è? Uscita bene? Guardala almeno, fammi vedere come è uscita Perché c'è questo tizio adesso? Cosa accade? Mi scusi lei, questo è il bagno delle donne Ok, anche se fosse uno Vittima di bullismo Che sta scappando dai bulli Nessuno parla in quel modo Perché quelli ricchi devono sempre spacciare? Non ne ha senso I suoi capelli sono fighissimi, blu ragazzi Ok, sta parte è interessante ragazzi Perché è per quello che sono... Oh 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 Ora Ok E ora c'è nel... Ma perché i ragazzi ricchi devono sempre mandare a puttare tutto? Cosa? Cosa? Cosa è successo? The fuck? Ok Ok, quindi il suo potere è tornare indietro nel tempo a piacimento ma deve imparare a usarlo Quindi chiaramente Ok E quindi ora posso rispondere da Gerotipia Da Gerotipia Da Gerotipia Da Gerro Bacarozzo Da Gerro Diarrea Com'è che si chiamava? Merda Si è un disastro questa cosa Ok What the fuck is happening? Ok Io no io 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 Lo so io Lo so io Ma che Arbus? Da Gerotipia Tenuto il tasto a destra per riavvolgere il tempo Ok Quindi possiamo riavvolgere di solo un tot Cioè quella linea già bianca Ok Quindi riusciamo a non far cadere la macchinetta Olè Anch'io voglio sto potere Ok Ok quindi Non mi faccio un selfie Ok Ok quindi ora cosa facciamo però Vabbè io guardo il mio astuccio Sta qua No 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 Non fare un selfie Non fare un selfie Anzi si Anzi no aspetta Volevo rispondere alla fottuta domanda Voglio rispondere alla fottuta domanda Ora che so Ora che torno indietro Che so qual è la corretta risposta Vabbè io ora mi faccio un selfie Così attiro la sua attenzione Lui mi farà la domanda Esatto Esatto Il dono di riavvolgere il tempo a quanto pare Dai 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 Daguerrotipia Daguerrotipia Eh si se siete tornati indietro nel tempo Non è ancora morta Daguerrotipia Daguerrotipia Dammi fa Vuoi rispondere Sì Sì Voglio rispondere correttamente Daguerrotipia Daguerrotipia Ora Ora noi lo sappiamo Ma no ma fammi rispondere Daguerrotipia Ma adesso che sappiamo la Risposta giusta Ma sei fottutamente stupida Ma sei stupida L'ha detto lei E l'ha detto lei Brava Lo sapevo anch'io Brava Lo sapevo anch'io Questo è l'unico Che hai preso informazioni Che potete utilizzare Ah adesso posso farlo Ok però va bene Non voglio anche rivolgere il tempo Basta Comunque aspettiamo che Suoni la campanella Mi costringe a farlo Ok Va bene allora Sono costretto Quindi Facciamolo allora Diciamo la risposta giusta Questa volta Sì 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 Va bene ho capito Daguerrotipia Beach Lui Daguerre Circa Ho studiato un sacco Signor prof Signor prof posso andare in bagno Signor prof Voglio uscire da qui Fammi andare al bagno Merda Oh ok Suonata Vabbè sto qua Già l'ho visto Quindi possiamo saltarlo Spazio salta Eh Io lo sto facendo Ma non lo fa Ma non me lo fa saltare Spazio salta Non vado Cosa sta accadendo Cosa sta accadendo All'icona Lo sotto Ok Andiamo a salvare La tipella Che si fa sparare Go 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 You fucking You fucking what Picchialo e scappa Picchialo Ok No non voglio No non voglio farlo Non voglio farlo Ma non voglio farlo Chi se ne è Devo andare a salvare la tipe Cosa me ne frega di Ok Siamo costretti a farlo Eeeh Sbamma Ok Parliamo col prof Però Però No non posso Non posso Eeeh Ok John Lennon disse Ok Ha Stai zitto adesso Stranzetto Ok Salve prof Salve signor prof Ciao signor prof Ciao prof Ciao prof Ciao prof Ciao prof Devo andare a salvare le tipe con i capelli blu Via Oh Non metterla a musica Che devo rimetterlo in silenzio Sì ok Corri Corri Spingo tutti adesso Sbamma Oddio è caduto Ah no ok Sembrava fatto Davvero Mi chiamerà Passo in mezzo Sì due Che sono poi affatto Aston Kutcher Vai Ok 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 ci siamo lavati No Prima vi abbiamo fatto il re coi baffi Poi ci siamo lavati la faccia Poi siamo andati a inseguirla a farfalla Esatto Foto Poi loro entrano E poi E poi Chi lo sa Ok Buttati Di Di qualcosa Fai Uh è vero Vai suonala Martello Prendi la Una cosa Sposta tutto Un martello C'è lì sotto Seriamente Prendi Perché c'è un martello Lì sotto Cazzo Ha sparato E io F***** Stupido Ok andiamo Andiamo indietro Andiamo indietro Ok no Ferma Ferma Oh f***** Ok Ok Veloce Sposta Sposta Muoviti Prendi Ah no Ce l'ho già Ce l'ho già Ok Vai martello Spacca tutto Ok Brava Picchia quella merda E scappa 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 Gordi B***h Ok Ok Che poi a me di lei Non me ne frega niente È lui che mi sta sul cazzo Perché sono i soliti Bambini Di merda Ricchi Che finiscono a spacciare Così a caso Bambini di merda Vai E quindi Per quello Ce l'ho con lui E quindi è per quello Che non me ne frega niente Della Della tipa Cioè nel senso Non la conosco nemmeno Sì ma io posso controllare Il tempo B***h Non me ne frega niente Ma cosa Cosa Colpevole di Ma cosa Ma basta Perché c'è Vin Diesel Bronzato Che mi parla Appunto Invece di Pedofilizzare Me Mi stava pedofilizzando Sto qua Fottuto Stupratore Maniaco A tre teste Nato dalle fiamme Dell'inferno In una caffettiera Se muovente Vai Ma tutti con me Ce l'hanno Cosa vuole Come fa a sapere Il mio nome Fato Chi è Ma chi è No controllo il tempo Sto benissimo Sto benissimo Sto 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 Io l'odio Sì Ditto Hai fatto la spia Sì Mi sta sul cazzo Questa gente Sì perché ero nascosto Esiste questa cosa Ma aveva una pistola E te sei lì tranquillo Ecco Vedete Vedete Quanto mi fa incazzare Sta cosa Per questo Ho fatto la spia Perché odio Sta gente Eh certo Certo No Ma non gli faranno niente Ma secondo te Gli faranno qualcosa Non farmi ridere Appunto Ma è ovvio Era ovvio Era ovvio Ci hanno i soldi Quindi Che schifo ragazzi Che schifo Però è ricreata bene Sta cosa Appunto Visto che ho riprescato E controllo Ma infatti Ma era ovvio Ma era ovvio Ma vaffanculo Ma no Ma non mi annulo Le scelte Ma vaffancula Quel coglione Va Mi sto già in Ok Mi sto già in Nervosendo È ricreata bene La corruzione Che c'è nel mondo È ricreata bene La mancanza Di spina dorsale Che hanno le persone Nei confronti Di coloro Che hanno i soldi È ricreata bene L'essere vermi Delle persone È ricreato bene L'ho chiamato Nel suo ufficio Gli parlerà E basta Dovrebbe finire A picchiato A sangue Cosa c'è qua? Missing Arcadia Beh Ma come Come si chiama? Si chiama Arcadia Ah no infatti Rachel Lambe 19 Vabbè Ok Hazel Cosa vuol dire Hazel Il tattoo Di un Vabbè Qualcosa di un drago Vabbè ok Ah ok Arcadia Ok Marroni Hazel è marroni Saranno castani Un drago sul polpace Una stella All'interno del polso sinistro Ok Grazie Ma non mi interessa Ok What do we do now? Professoressa McGranit Mi parli Oddio Si chiama Grant Cosa vuoi? Dica Certo Giusto Giusto Ma se c'è gente che gira con le pistole Ripeto È giusto Cosa devo dire È assurdo David Madsen Un nome a caso Tipo Calorifero Avrei potuto aiutare Rachel Questo Ma cosa? Ma non è Oh my Chiede la mia opinione Poi no Non va bene Se è grassa È brutta Non mi frega niente Va a me Fa voglia darmene La stacqua Mi staccio sui coglioni Lei sa molte cose Ora mi dia un più In pagella Ah è di scienze Non è vero Ah fa insegna storia Sei una donna fallita No 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 Che cazzo vuoi? E' qua Madonna Questa azione Questa azione avrà delle conseguenze Meglio Meglio Preferisco essere odiato Ma almeno dire le cose come le penso Ciao Max Puoi portarmi la chiavetta Ho bisogno di info e spazio Scusa Sono in Italia Giornata folle Ci vediamo al parcheggio Sarò quello figo Sono pronta a fare foto Tra poco lo spero Minchia quanto Quanto ci prova Chi è sta qua? Calpestala Ok andiamo al dormitorio Dormitorio di qua Ok Cosa accade qui? Ok Poi stupidamente ho detto al presi dei guasti di aver visto Nathan con una pistola Ma perché stupidamente? Vabbè Non volevo chiedere Non volevo chiedere Ovvio Hanno i soldi Sto alzando la vita Ma va bene Ok Poi abbiamo i nuovi personaggi Abbiamo Nathan Ecco che ma devo con Nathan Mi mangio se dobbia di aver innescato Poi mi dà un vantaggio Deve essere Devo essere cauta I suoi soldi contro i miei Appunto Da un lato Non si è meglio di controllarsi Strafatto Sicuramente strafatto I ricconi Fanno sempre così Quello ha detto La sicurezza è più grande stronzo Ma è un pedofilo C'è un pedofilo È uno stupratore mascherato Oggi mi è tutta una torchiata Non so di nero Se ne è che è stato cacciato D'esercito Sostituo a fare lo spaccone Con piacere il distintivo Chi sposerebbe un tipo così? Nessuno Mi sembra abbastanza chiaro Chi manca? Il preside? Ah il preside? Ok Ok Questo cosa Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ah Sono le foto Che dobbiamo fare Alle cose Vabbè Ma che non siano Opzionali Tipo Lo scogliato Sicuramente Qualche parte Comunque Ci vediamo Nella prossima parte Lasciate mi piace Il commento E viagate Ciao